Ben ritrovati nel mio piccolo canale. Con questo video voglio presentare una borsina Milwaukee, molto compatta, piccola, ben capiente, dove è possibile stivare dentro tutto l'occorrente per il primo intervento, cioè tutti gli strumenti secondo me indispensabili da tenere in una borsina da casa, da macchina, dal lavoro, per poter fare subito i piccoli interventi, diciamo di emergenza o di routine. Tutto sta a portata di mano, questo è quello che voglio portare all'attenzione perché a me personalmente piace che tutti gli strumenti dal lavoro di cui posso aver bisogno siano a vista, ben riconoscibili e che non debba ravanare dentro le tasche per poter prendere ciò che mi serve. Quindi iniziamo il tour bag, come viene chiamato in inglese. Questo lato della cassetta trova uno spazio, due pappagalli molto economici, non sono professionali ma vanno benissimo. Questo è un vigor che è in ogni caso robusto. Non è preciso, è proprio due pezzi di ferro incastrati ma il suo lavoro lo fa. Il tuo compagno è più piccolo per l'evenienza, anche per spazio e per peso, uno è grande e uno è piccolo. Perché due? Perché il pappagallo spesso e volentieri si adopano in coppia, quindi ce ne vogliono due. Stanno qui, si prendono e si ripongano facilmente. Qui abbiamo fascettine di metallo, quelle classiche per i tubi della lavatrice, in casa è bene averla portata di mano. Qualunque cosa lavatrice, lavastoviglie o altro scarico si fissa con questo. Anche la sistola fuori del giardino vanno benissimo queste. Si usano anche a fantasia per altre cose. Qui trova spazio anche lubrificante VD40, indispensabile. Sta qui nel suo alloggio. Sta preciso, è fantastico. Qui troviamo nastro isolante e teflon. Anche queste due cose indispensabili. parte frontale, tutta la parte dei cacciavisi in alto. Qui abbiamo il PH2, il cacciavisi più usato di tutti. Questo è un set a form. È un marchio, se non ricordo male, anglosassone. Poi non so se dove vengono prodotti, ma sono dei buoni cacciavisi. Io l'ho messo al lavoro, ha lavorato diverso tempo, presenta segni d'usura perché chiaramente ha fatto il suo lavoro, però non si è mai deformato, non si è rotto. È un buon cacciavisi. Ha una buona presa. La gommina sopra è veramente incastrata bene. Anche volendo non viene via. Se lo trovate a giro, questo marchio, compratelo pure perché è un ottimo ottimo cacciavisi. Costa il giusto, non costa quanto in USAG, quanto in BESA, ma fa il suo lavoro e è veramente valido. Sta qui, si prende e si ripone con facilità. Qui trova spazio in multibit. Ci tengo montata la T20, la Torx 20. È la misura abbastanza usuale che possiamo trovare negli elettrodomestici in casa, in qualche mobiletto e in ogni caso poi questo può ospitare qualunque tipo di inserto. Non è il massimo perché ha questa parte che dà noia, però all'occorrenza va benissimo. Anche questo sta qui, si prende e si ripone senza che dia noia a tutte le operazioni. Il cacciavisi è a testa piatta, grande, 150 cm di lama, credo si chiami lama questa parte qui. Oltre al suo lavoro per le viti così come scarpello, come leva, come da demolizione, un cacciavise da demolire, da usare in tutte le occasioni. Un Maurer Plus non dovrebbe essere un cacciavise professionale, ma non sono malaccio. Costano poco, si trovano un po' da tutte le parti, quindi anche questo fa comodo, indispensabile, sta qui, si prende e si rimette. Qui trova spazio il multibit della Milwaukee, fatto vedere più volte in altri video. Sette cacciavisi in uno perché ha la prolunga lunga, quindi è facilmente usabile come cacciavise elastico. Può cambiare la punta, mettere quest'altra. Io ci tengo fissa la T15, Torx 15, è un altro inserto della famiglia Torx che troviamo spesso a giro. Cricchetto, è fantastico, tutte le punte inserite qui non cadono neanche a volerlo, perché spesso i multibit hanno questa parte più molto lasca, si perdono le punte. Questo invece addirittura è duro per toglierla. Anche questo comodamente qui è comodamente prendibile, usabile. Un altro PH2 più lungo, 15 cm di lama, beta, un buon grip. Diciamo che è il mio preferito, quando non ho problemi di spazio il primo cacciavise e vado a cercare questo. Io trovo che con la lama lunga abbiamo molto più controllo nella vitale delle viti particolari. Come dicevo prima, è uno dei miei preferiti, sia come si impugna, che è bella robusta, è agile. Io chiamo agilità questa cosa qui della cacciavise. Questa è la robustezza in caso di bisogno. È bene che il manico sia abbastanza grande per ospitare tutta la mano, però quando si deve avvisare in particolare condizioni mi piace che il cacciavise sia agile per fare questo movimento. E questo è il mio preferito. Trova spazio qui, si prende, si rimette senza problemi. Un giratubi dell'otto, un giradadi scusate. È comodo avere il giradadi dell'otto a cacciavise perché il dado dell'otto in casa, se vogliamo fare la camionotensione, spesso e volentieri la troviamo in misura. E questo è della besa, robustissimo, è veramente un pezzo di ferro. Io l'ho usato in torsione, in leva, anche un martello per rompere qualche cosina. Qui mi si è rovinato perché stupidamente l'ho preso nel pappagallo per fare tipo una chiave. Non ci ho messo niente a protezione e me l'ha strappata. Ha diversi anni, ha lavorato tantissimo ed è un ottimo, ottimo ferro per gli attrezzi. Ferro perché è proprio un ferro. Trova spazio qui, non da noi a niente, è fantastico. Qui abbiamo un cacciavise piano per un tatt elettrici o per le fascette, USAG 125 cm di lunghezza, un buon cacciavise nuovo, usato veramente poco e sta qui. Anche lui ha il suo alloggiamento preciso e non si muove. Poi troviamo il martello. Il martello ci vuole, questo è il giusto compromesso per questa borsa, piccolo, in ferro, schiodatore, testa tonda, robusto, molto economico, senza grosse pretese, è trovato chissà dove ma il martello è indispensabile. Anche il martello sta qui e non si muove. Qui ci sono, ora mi sono venute via, due, ci sono le fascette. Le fascette sono una cosa fantastica. Fanno comodo, ti salvano il lavoro, blocchi qualunque cosa nel giro di pochi secondi. Chi l'ha inventato è stato veramente un grande. Io consiglio di tenerla a tutti a portata di mano un po' di fascette di questa fattura. Media lunghezza, ci resistono in tutti i modi. Stanno qui e anche questi si prendono e si ripongono senza alcun problema. Qui tengo anche le pinze a becchi lunghi e curvi della Maurer, Maurer Plus, oggetti che si comprano ferramenta classica, vanno benissimo, non è che devono poi reggere chissà che tipo di sforzo. Quindi vanno bene anche di marche molto economiche. Sono progettate bene, il manico è fatto bene, la gomma è buona, assorbe bene anche la sporcizia, l'olio e dovendo scegliere fra le pinze classiche a becchi lunghi e queste a becchi lunghi ma piegati, per un motivo di spazio faccio una scelta, preferisco queste perché perlomeno ho un vantaggio se devo sfruttare angolazioni particolari. È un attrezzo utilissimo, serve per le piccole lavori, per tenere fermo una vicina, anche Odino, aiutarsi a mettere qualcosa, togliere qualcosa, recuperare una vite che va in un alloggio strano. È un attrezzo da non sottovalutare. Stanno qui, si ripongono e si riprendono senza problemi. Una taschina ad amanti c'è anche un paio di forbici universali, tagliano tutto, carta, cartone, strisce di gomma leggere, guaine, non sono tanto indicate per i lavori elettrici, ce n'è un altro tipo, vedremo dopo, ma un paio di forbici robuste e buone per tagliare qualunque cosa devono essere sempre a portata di mano. Trovano il suo alloggio qui, comodissimi, si prendono, si usano e si rimettano. Quest'altra parte dei cacciavisi, oltre ai cacciavisi che abbiamo già visto, ci sono due chiavi, una 15 e una 19. Chiavacce trovate a giro senza un marchio, però sono robuste, io le ho tenute perché ci ho lavorato, il suo l'hanno fatto, non consiglierei a nessuno di usarle nei bulloni di una macchina per non rischiare di rovinare qualcosa, ma all'occorrenza vanno benissimo per qualunque esigenza. Anche queste trovano spazio qui, facilmente fruibili all'occorrenza. Qui c'è anche un seghetto, semplicissimo, dà due soldi, l'importante è comprare una lama buona perché chiaramente quando tagliamo quello che conta sono i denti della lama. Poi chiaramente non sarà precisissimo, senz'altro forse è anche un po' storto, non è in asse, ma non è un seghetto da officina di precisione. Serve all'occorrenza un bullone che sporge, un tubo di plastica, un corrugato, qualunque cosa, anche legno, listere di legno, un seghetto a portata di mano, al volo ci deve essere. Sta qui, si prende, si toglie, si rimette, comodissimo. Un altro oggetto utilissimo, spasolina, raschietto, semplice, economica, di plastica, Emi Tools. Le spasole sono lamiere con un manico, quindi non è che occorre comprare chissà che tipo di spasola. L'importante è scegliere una misura adeguata un po' a tutte le soluzioni, a tutte le esigenze, né troppo larga né troppo stretta. Io ho preferito questa misura e oltre a raschiare, che è il suo lavoro principale, può incidere, può pulire lo sport in un angolino che abbiamo in casa, fa mille, fa mille utilizzi, è per mille utilizzi diciamo. Ed è una cosa da non sottovalutare, io spesso non vedo spasole nelle bolse dal lavoro, ma secondo me la spatolina ci deve stare. Anche questa a portata di mano si prende, si toglie, si rimette. Vediamo di inquadrare un pino meglio, ok? Qui abbiamo le forbici, si possono prendere con tutta la sua custodia, mettercela alla centura se serve e poi all'occorrenza usarle. Modello USAG 207D, sono ottime forbici affilate, hanno il loro tagliacavo e fanno veramente il suo lavoro. Quindi, custodia, appesa o altrimenti solo forbici e poi si rifongono, tutto a portata di mano. Pinze, anche le pinze subito fronte, pinze semplicissime, blinchi, vanno bene, servono per tenere un dado all'occorrenza, piegare una lamiera, fare torsione, la pinza classica. Non serve spendere poi chissà quanti soldi per una pinza, a meno che, ripeto, non siamo in officina e quindi ci serve anche pinze particolarmente robuste o più precise. Ma questa per casa, per tutti i giorni, per il pronto intervento, va benissimo. Costa poco, si ripone qui, subito fruibile, anche questa, subito immagazzinabile. La parte qui, troviamo le chiavi di uso più comune, la 13, una snodata, è una Valex, non so se si legge, non mi piace un anche ne come acciaio, ne come cric, però costa il giusto e per l'occasione fa il suo lavoro. è fatta bene, la più snodi. Qui c'è una 13 fissa, tutta arruginosa, ha preso un sacco di umidità, ma è sempre buona. Questa è un Usag. Perché due? Perché come il pappagallo le chiavi spesso e volentieri si usano insieme. E quindi almeno la 13 e la 10 averle due così. Qui troviamo la 13, la 10, questa è la 10 fissa, c'è anche la 10, la 12, c'è anche la 10 snodata. Questa è una Vesa, è già migliore, una chiave, si vede anche, si sente anche al tatto oltre all'occhio, il metallo, la forgiatura è migliore. Il cricchetto è più preciso, anche questo fissaggio qui è molto più fisso rispetto alla Valex. E anche queste trovano spazio, tutte qui, a portata di mano. C'è anche la 8, una misura molto usata al giro. La 8 ce l'ho una sola, in all'occorrenza c'è il giratubi, se servono due, altrimenti c'è il cricchetto, che mi sa che non l'ho fatto vedere. Poi ci sono anche delle brugole, che sono un po' più difficili da prendere, però perché le tengo maggiù? Perché le uso veramente poco. Se proprio non sono obbligato a prendere questo tipo d'attrezzo, quando trovo brugole, brugole, o bulloncini, con l'impronta così, quindi visi o bullone che hanno l'impronta brugola, cerco sempre di usare dell'inserto separato, montarlo sul cricchetto, o qui, e poi usarlo nel cacciavite. Quando proprio non è possibile si usa queste, ma per me sono scomodissime. Sono anche di scarsa qualità, non c'è un vestito molto, della Lion, però sono robuste, il suo lavoro lo fanno, sono precise, quindi non hanno gioco, perché le brugole quando non sono molto precise, basta anche un decimo, tende a spanare proprio l'impronta. Quindi queste stanno qua giù, sono un po' più complicati a tirare fuori, si spessa tutte le altre chiavi, però per semplice emotivo che vengono usate meno, quindi vengono scrivate in questo modo, rendono fruibile l'uso delle chiavi della pizza, ma non il loro l'uso particolare. Tutto il resto è fruibile. qui c'è il cricchetto, non avevo fatto vedere gli ansi, trova spazio in una taschina, si prende, si ripone, un quarto di pollice, una prolunghetta, all'occorrenza si toglie, all'occorrenza qui c'è il portabit, altrimenti vi si monta la bussola direttamente, questo è fantastico perché oltre che ha clic, classico, ha questo movimento qui, è veramente veramente utile, anche questo, clac, e dentro, si prende e si rimette. Qua abbiamo, taglierino, comodissimo, new walk, a me piacciono questi che si aprono tipo coltello, io che vi devo dire, l'ho detto diverse volte nei video, sarò noioso, però voglio che il taglierino si apra se lo voglio aprire io, non si deve aprire per sbaglio, quindi questo è fantastico perché premo e lo apro, una volta aperto non si deve chiudere finché non lo dico io, quindi premo e chiudo. Tutto mesato, robustissimo, l'ho usato in tutti i modi, così, così, a tranciare con due mani, non lo romperai mai, questo addirittura porta l'arma di scorte, ce ne vanno due, una bella clip, chiuso, da qui, è perfetto. Qui abbiamo cacciavisini di precisione, di precisione, più piccoli, per contatti elettrici, questo è un USAG, 0x4%, 4 è questa, la larghezza dello spacco, poi ho un cacciavise 0x75% della USAG, a croce, PH0, per le spine, contatti elettrici piccoli, un felo, questo è un felo, Madden Germany, cacciavise buonissimi, ancora più piccolo, proprio per i mammut più estremi, contatti elettrici. Io ci riporto nel pennarello il segno sopra, se anche poi va via, poi ce lo rimetto, però voglio vedere al colpo d'occhio se anche le riconosco, perché anni e ci lavoro, voglio che ci sia il simbolo sopra. Una matita, una livellina piccola, quanto sarà, 30 centimetri forse? Precisa, perché l'ho provata prima di comprarla, provatele sempre perché non sempre dice il vero la livella economica che compriamo e quindi è inutile avere una livella che non dice il vero. Questa era precisa, l'ho dovuto comprare due per trovare una precisa, poi ho imparato e prima di comprarla va provata. Per caso è fantastica, una mensola, un quadro, un mobiletto, qualunque cosa che non richieda livelli di dimensioni più generose, questa è fantastica. Misura perfetta per entrare qui. Un buon metro, il mezzo sta attaccato nella sua clip. Questo è un metro sponsorizzato dell'Arcaset, però è veramente buono, è resistente, all'occorrenza si usano il righello, si può appoggiare e scrivere e un buon metro si vuole, 5 metri di lunghezza. Non comprate i metri della copp o proprio quelli da 2 euro perché che succede? Dopo un po' vi va via il marchio dei numeri, tende a scolorirsi o venire via. E poi si riflettono troppo facilmente, si rompe la molla di risorno, un po' di soldi, qualche euro in più in un metro, investiamola. qui, in questa scasolina attesa, diciamo così, ci sono punte per forare, piccole, non troppo, io tengo in misura abbastanza piccola perché le uso spesso e volentieri per fare i prefori, non tanto per fare chissà che tipo di buchi. È comodo perché riescono a stare qui, non si perdono. L'unica taschina che non è molto fruibile come queste, tanto per capirsi, è questa tasca qui perché fa un po' da magazzino, un po' di roba mischiata dentro. Qui chiaramente c'è un pennarello, lui da vernice, che è l'ottimo compromesso. Ne porti uno, scrive da tutte le parti e durano anche nel tempo perché sono pennarelli di buona marca. Qui c'è un lumino, piccola luce, da ispezione proprio. Ne avevo un'altra molto migliore ma è andata perduta, quindi ora ci sta benissimo. Accendino. Perché accendino? Secondo me l'accendino fa parte della bolsa degli attrezzi. Dobbiamo scaldare anche sciolata in plastica, accendere qualcosa, bruciare un pezzo di carta per fare una fiamma. L'accendino ci vuole, non costa niente, trova spazio a tutte le parti. Io lo tengo qui. Poi che tengo a portare di mano? Due spine piatte. Perché tutto ciò che compriamo montano l'asciugo. In casa, spesso e volentieri, non abbiamo l'asciugo dove serve. Quindi senza tanti problemi taglio la spina, monto questa e attacco l'elettrodomestico o ciò che deve attaccare. Poi, per prendere questa casolina, chiaramente qui c'è un po' più da... come la prendo con l'assa questo, ma un compromesso ci deve essere. Qui c'è tutti gli inserti, possibili e immaginabili. Pizzeta, brugole, torx normali, torx aperte, quelle piatte e le piacca. C'è il suo portanserti da montare nell'avvisatore o dove serve. Buona fattura, la USAG non si fa certo andare a raccontare. Questo fa comodissimo. E qua giù, togliendo questi, si accede al fondo e tengo in uno di questi sacchettini, sono filtri per le sigarette, sono molto robusti, hanno una buona fattura, si frestono bene a costo zero. Ci tengo le bussole per il cricchetto. Non è un sistema comodissimo, però all'occorrenza ci sono. Non sono bussole di grossa qualità, anzi sono proprio scarse. Alla prima occasione me ne compro qualcuna un pochino più decente. Quindi, qui si risistema un pochino. Come ho detto prima è l'unico scomparto che richiede un po' di più passaggi insomma per prendere le cose. Però è l'unica tasca. Tutto il resto, si prende l'attrezzo, si ripone, si prende la sega, si ripone, servono le forbici, si ripongono. Niente va a giro. Ha una maniglia, si può portare dove ci pare. Uno dice? Non ci sta l'avvisatore. No, sbagliato. Qua c'è anche l'avvisatore. Milwaukee, buon avvisatore, 12 volt, prodotto professionale, due velocità. Ma è il classico avvisatore 12 volte. Non è che si deve raccontare come funziona. Trova posto qui. Io credo sia un sistema di accumulare, cioè accumulare no, un sistema di stivare gli attrezzi che più servono all'occorrenza giusto per la prima uscita. Ciò che può servire per la manutenzione casalinga. Poi in caso di bisogno ci sa anche altre cose, ma questa è la cassettina. E a me piace veramente come è stata sia disegnata lei stessa che come io sono riuscito a mettere tutto ciò che mi serve a portata di mano. Il video finisce qui. Spero sia stato di gradimento. Alla prossima.